Vuole raccontare un uomo speciale, un uomo straordinario che è vittima di molti pregiudizi e per questo per esempio a lungo non lo si è studiato nelle scuole, a me non l'hanno mai insegnato, io l'ho scoperto da solo quando andavo all'università e quindi ha fatto un'operazione di cambiamento culturale e che era più difficile da fare, sistemare un museo non è così difficile, cambiare la vulgata su un personaggio è difficilissimo e ci stiamo lavorando duramente ma devo dire con successo.